Quali sono gli strumenti per combattere il bullismo? Sicuramente con la prevenzione e con un lavoro di rete di tutte le istituzioni, quindi sicuramente amministrazioni come il Comune, la Regione, ma anche le forze di polizia, le forze municipali, cioè tutti coloro che a diverso titolo hanno delle competenze debbono intervenire e intervenire insieme. Noi in particolare, come Assessorato alla Pari Opportunità e Diritti Civili, abbiamo da poco approvato due leggi, una contro quella che è la violenza di genere, ma anche di prevenzione e quindi di promozione nelle scuole di quella che è una cultura di superamento degli stereotipi e di rispetto. E quindi questo significa fare prevenzione, così come la legge 5, che è la legge contro tutte le discriminazioni, delle azioni che anche qui prevede delle azioni positive. Fondamentale, certo, è l'intervento, ma ancora più importante è la prevenzione. Il bullismo a scuola è un fenomeno sempre da combattere? Un fenomeno da combattere, è un fenomeno che lo si può combattere tutti insieme, lo si deve combattere tutti insieme, ma soprattutto facendo comprendere ai nostri ragazzi quali sono i limiti. i limiti oltre i quali andare vuol dire infrangere la legge, vuol dire non rispettare le altre persone, vuol dire infrangere tutta una serie di rapporti sensibili e di regole con le quali i ragazzi e le ragazze devono convivere all'interno delle nostre scuole. Un aspetto deve essere evidenziato, che il fenomeno del bullismo lo si può combattere soltanto se si crea un patto educativo anche con le famiglie, se si crea un patto educativo che va al di là delle mura della scuola, ma entra all'interno delle istituzioni. E sottolineo l'aspetto legato alle famiglie, se c'è condivisione rispetto al riconoscere l'autorevolezza degli insegnanti, se c'è rispetto nel riconoscere l'autorevolezza delle istituzioni, di coloro che compongono i nostri contesti sociali, allora questo può essere elemento che ci può aiutare nel dare insegnamenti, e nel fornire valori educativi ai nostri ragazzi all'interno delle nostre scuole. Credo che questa sia la strada intorno alla quale dobbiamo lavorare e che è una squadra che è fatta di sinergie, di condivisioni, di obiettivi che devono essere raggiunti e percorsi con i quali si deve lavorare insieme. È un fenomeno che immaginiamo possa toccare i contesti sociali più drammatici, più brutti, le periferie, come oggi si usa dire. In realtà non è così, tocca i contesti anche dove il livello culturale è molto alto e questo è testimonianza di come non ci sia consapevolezza dei limiti e non ci sia la consapevolezza di come il non rispetto delle regole possa davvero compromettere il percorso di vita di ogni singolo ragazzo e di ogni ragazza e sottolineo il fatto che ci deve essere un'alleanza educativa con i genitori perché troppo spesso sono i genitori stessi e spiace doverlo constatare che nel momento in cui si verificano elementi di violenza, di tensione tra ragazzi sono i genitori stessi che non riescono a far scegliere ai propri ragazzi dove sta il bene e dove sta il male. Quindi qual è la regola giusta e il modo giusto per potersi comportare.